Dopo un'altra settimana di pausa Borussia Roma Wolfpack alle ore 21 Quindi questa è la E insomma Provvisoriamente sono le partite che Si devono appunto Disputare Il prossimo lunedì ovvero Wolfpack Arsenal Alle ore 20 Locomotive Pierri ma non troppo Alle ore 21 Manchester United Giovanni Marmotte Il big match alle ore 21 Borussia Roma Yellow Sunmarine Alle ore 22 Queste sono le partite del lunedì 23 febbraio Passiamo invece a vedere poi le altre Insomma Statistiche che Riguardano la classifica a marcatori Perché troviamo Cristiano Trovato Sempre a quota 28 gol Questo è magari Non ancora aggiornata la giornata di ieri E praticò a 17 gol Insomma ci tiene alto un pochino L'orgoglio giallonero Per quello che riguarda i portieri Dopo la prestazione di ieri Io penso che il nostro Davide Moroni Sia in testa E quindi anche qua Nei migliori Giocatori Troviamo ancora praticò in testa Con Cristiano Trovato A pari punti A 15 punti In testa alla classifica Poi Comunque Troviamo anche la disciplina Attenzione Per il Borussia Roma Abbiamo due ammoniti Quindi diffidati Sono Copparoni E Tacelli Quindi questi sono I diffidati E Mentre Tra gli ammoniti Ancora Gli altri del Borussia Roma Abbiamo Paolo Galli Mentre altri Non ce ne sono Quindi due In diffida Quindi Pierluigi Copparoni E Luca Tacelli Queste sono Sono insomma Le Quello che riguarda I diffidati Ecco Queste sono le Le statistiche Passo alla classifica Perché la classifica Invece vede Appunto Il Il Manchester United Sempre in testa alla classifica Seguito dal Borussia Roma E dalle giovani marmotte E segue anche Il Logombo Di Colleoni E con La Arsenal In zona retrocessione Troviamo sempre Il Wolfpack Con il Fieri Ma non troppo E lo Yellow San Marine Quindi questa è la classifica Della Serie A 2014-2015 Alla Roma 3Z Targato Febbre da pallone Dove potrete ritrovare Tutte le statistiche Sul Sito ufficiale Febbre da pallone Punto tumblr Punto com E sulla pagina ufficiale Del Borussia Roma Su Facebook E Twitter Ragazzi 18 e 18 Noi Tanto So che sta per cominciare Il momento dell'aperitivo Questo è L'orario più bello Della giornata Secondo me Quando gli uffici chiudono Quando si comincia un pochino A A tirare le somme Della giornata E noi Ci sentiamo magari Una bellissima canzone Una hit Meravigliosa Secondo me Poi Comunque è stato anche premiata Dalla stampa E ci sentiamo La canzone Di Neck E questa è Fatti Avanti Amore Abbiamo gambe Per fare passi Trovarci persi Trovarci persi Avvicinarci E poi Abbiamo bocche Per dare baci O meglio dire Per assaggiarci Se un pianto Ci fa nascere Un senso a tutto Il male Forse c'è Io sono pronto A vivere Ti guardo E so perché Siamo fatti Per amare Nonostante Noi Siamo due braccia Con un cuore Solo questo avrai Da me Fatti avanti Amore Fatti avanti Amore Abbiamo mani Per afferrarci Girare insieme Come ingranaggi E poi Abbiamo occhi Con cui vediamo Ma se li chiudi Ci riconosciamo Perfetti come macchine Miracolo Di nervi Ed anime Io non ti chiederò Perché Ti stringo E credo a te Siamo fatti Per amare Nonostante Noi Siamo due braccia Con un cuore Solo questo Avrai Da me Fatti avanti Amore Fatti avanti Amore Senti quanto rumore Il cuore Fa da solo Dividiamolo in due Io la tengo per te La sua parte migliore Fatti avanti Amore E fatti avanti Amore Siamo fatti Per amare Nonostante 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 Noi Siamo due braccia Con un cuore Solo questo Avrai Da me Fatti avanti Amore Tu Fatti avanti Amore Fatti avanti Amore Fatti avanti Amore Fatti avanti Fatti avanti Amore Fatti avanti Fatti avanti Fatti avanti Amore Fatti avanti 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti